Voi non meritate di restare con noi. Che ti è saltato in mente? Rubare la perla, che follia! Era l'unico modo per salvare Equestria. Peccato che ti sbagliassi! La regina stava per accettare! Abbiamo fatto come ci hai detto e questo le ha fatto capire che valeva la pena salvarci! A meno che tu non volevi che la facessimo divertire! Volevi soltanto che la distraessimo! Normalmente non l'avrei mai fatto, ma qui non siamo a Equestria! Non possiamo andare in giro a ballare con i truffatori, fare arcobalini nel cielo e aspettarci che tutto vada bene! Non basta, lo capite! Siamo noi che non bastiamo! No Twilight, noi eravamo uniti! Noi stavamo quasi per ottenere aiuto! L'unica cosa che ci ha fermato sei tu! Io ho fatto del mio meglio, ok? Dipende tutto da me! Sono io quella che Tempest vuole! Sono io l'ultima principossa! E sei anche quella che non ha alcuna fiducia nei suoi amici! Magari me la sarei cavata meglio senza amici come te!